Sembra un bollettino di guerra e vede la Sicilia il fronte più avanzato e a rischio collasso. La disoccupazione segna un nuovo record, toccando nel secondo trimestre 2013 quota 21,6%, un più 2,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Cifre che fanno impressione, che fotografano come la crisi economica, fortissima in tutto il paese, in Sicilia stia diventando devastante. Complessivamente la forza lavoro nell'isola risulta in netta flessione, da 1.764.000 a 1.706.000, segno che molti siciliani, in maggioranza giovani, hanno smesso di cercare un'occupazione oppure hanno preferito andare in altre regioni. Infermenta anche i sindacati che, tanto per cambiare, annunciano il solito autunno caldo e che coinvolgerà, dicono, il presente alla regione Crocetta, con decine di vertenze pronte a scoppiare e il rischio concreto che salga la tensione sociale. Sindacati che, in coro, chiedono un cambio di passo da parte del governo regionale, ma anche il rilancio immediato dell'occupazione. Non si può pensare solo ai precari, affermano dalla UIL regionale, ma nell'agenda della politica deve trovare posto anche il tema di che ha perso il posto di lavoro e si trova a 40-45 anni senza alcun futuro. Per la UIL servono per tante azioni precise, come lo sblocco dei pagamenti ai fornitori e la necessità di trovare accordi con la grande industria.